Nel 2020 nel distretto Pratese si sono persi 2.161 posti di lavoro, 955 nel tessile e 1.242 nei servizi, 147 nelle costruzioni, mentre sono aumentati di 183 i lavoratori impegnati in altri settori. Sul fronte delle aperture e delle cessazioni delle imprese, sempre sui dati forniti dalla Camera di Commercio, il saldo è di meno 103, un'emergenza lavorativa che nell'ultimo quadrimestre, rispetto allo stesso periodo del 2019, ha evidenziato un'ulteriore perdita di 650 posti di lavoro. Dati pesanti, ha commentato Lorenzo Pancini, segretario provinciale CGL, ulteriormente aggravati dal blocco dei licenziamenti. La situazione quindi è tragica e i dati dell'ultimo quadrimestre confermano un peggioramento, con il meno 15% degli avviamenti. In un anno sono state autorizzate 16 milioni di ore di ammortizzatori sociali. È come se 15.000 dipendenti non avessero mai lavorato. In provincia di Prato, nel 2020, alla Camera di Commercio si sono iscritte 2.121 imprese, mentre quelle che hanno cessato l'attività sono state 2.224. Le maggiori perdite sono risultate nell'industria, seguita dal commercio e dai servizi. Un quadro, quello che emerge dai dati riguardanti la demografia delle imprese, che conferma le difficoltà con cui si sta misurando l'economia del territorio, commenta Dalia Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia e Prato. E la situazione potrebbe peggiorare ancora.